Musica 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 Come è il primo tempo? Tutto bene, tutto bene. Chi è stato il migliore? Il migliore è stato partner. Panner. Non è proprio di sì. Non è di sì, non è di sì. Giulio, chi è stato il migliore? Panner, ovviamente. Panner. Panner. Dai Stefano. Anche insigne. Insigne? Dissabessazione. Ci aspettiamo molto da Zapata. Dobbiamo provare la sua forza. Si adatterà Coppenites? Lo spero, ci serve comunque. Forte fisicamente, quello è sicuro. Abbiamo bisogno di questa vittoria, assolutamente. Dobbiamo arrivare a Londra. Come è qui? A Londra, adammarrivalo. Stiamo arrivando. Che si dice? Tutta a forza. Il migliore? Il migliore sarebbe matto se ci stessi qua. Il migliore è sempre insigne. Insigne? Panner. Panner. Si è apparato. E Zapata? Come è andato? Come è andato Zapata? No, no. Che è stato il migliore? Il migliore? Che è stato il migliore? Lorenzo. Lorenzo? è un'idolo è un'idolo Reina? no ma bene dopo il rigore di Palotelli è un'idolo bello e bravo ahahah non è un'idolo non è un'idolo non è un'idolo non è un'idolo di prima Gonzalo che parte è casinata per libero dai 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 no dai 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 il nudo il lancio per Higuain che il notte corta mai è un'idolo vai, 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 vai! vai vai no andiamo veramente a chiudere definitivamente la partita con Gonzalo no Il pallone alto sulla traversa chiude Portanova, si aspetta il fischio dell'arbitro, il Napoli Il Napoli per un'altra La tarda è in mea, adesso vedete voi, due capitini, salutate la capolista E a capolino l'abbraccio a tutti quanti noi, tutti a Londra Oh vita, oh vita mia, forza, 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 forza Pistare, forza, 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 forza Guardate i tuoi uomini, se non siete qua da me, se non siete qua da me, se non siete qua da me Alle 14, se non siete qua, alle 9, alle 9 italiane sono le 8 in questo Alle 9 italiane sono arrivati a Sant'Ono L'ultimo passo da far tenere venite è il percorso di Sant'Ono Quattro le leoncine, otto i croquet e quattro il papà Esattamente Poi faccio la sorpresa di un bagno mio, adesso mi lavora, mi vuole evitare Grazie 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 Grazie